Cosa ci tocca fare per portare a casa una fetta di pane? Cosa ci tocca fare? Io devo fare l'ascensorista. Lui sento il riporto intero. Sto volendo di pronuncare tiglie. Solo debiti. Bravo. Mi do la mano. Grande. Mi do la mano. Mi do la mano. Mi do la mano. Mi do. Mi da mano. Mi do la mano. Mi da mano. Mi della mano. Mi da mano. Mi da guayù. Io. Cosa. Juà. ило gente. Io. 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 Vdio. Io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come andava? Benissimo. Guarda qua. Grande. Dai. Mi mancava se lo vede. Aspetta che ti sgancio. Grazie a tutti.